Questo webinar che conclude la serie della PID Academy 2020 e che si concentra sulle blockchain è reso possibile dalla collaborazione tra il PID della Romagna e il laboratorio aperto Casa Bufalini di Cesena, supportati dal punto di vista tecnico da CISE, Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico che è azienda speciale della Camera di Commercio della Romagna e da Romagna Tech. Il PID della Romagna è il vostro riferimento principale per i temi che riguardano la trasformazione digitale. I PID, punto impresa digitale, fanno parte dell'architettura della politica impresa 4.0 e offrono alle imprese informazione, formazione di primo livello, assistenza all'autovalutazione della maturità digitale e anche un supporto finanziario a progetti di digitalizzazione. Ogni anno si aprono dei bandi, il bando di quest'anno è chiuso, comunque la Camera di Commercio interviene anche con un sostegno che non è solo alla cultura della trasformazione digitale ma è anche all'implementazione. Il laboratorio aperto Casa Bufalini invece si inserisce tra i laboratori aperti, cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il PORFESR e hanno l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale invece delle nostre comunità, delle nostre società coinvolgendo quindi anche attori come possono essere i cittadini di ogni età, gli studenti ma sono anche la casa per i potenziali imprenditori, gli start-upper. Passo subito la parola a Diego De Simone che invece ci prenderà per mano per entrare nel mondo delle blockchain e avere poi quegli strumenti di base per capire meglio gli esempi che ci verranno illustrati. Prego Diego. Ciao Giulia, buongiorno, mi sentite correttamente? Sì? Sì, ok, ok. Tanto vi dico che mi hanno scritto in privato, c'è qualcuno che sta provando ad entrare ed è in coda, insomma la solita stanza di attesa di Zoom. Tanto mi presento, grazie, Diego De Simone di Botica e di Fattor Comune, nel senso che ho fondato due società, una che si occupa di eventi e digital transformation in genere e un'altra che è Botica, che si occupa di intelligenza artificiale e di scrittura di algoritmi dedicati per aziende e per imprese. Prima cosa dico che non sono un tecnico, ok? Non sono un programmatore, sono una persona del marketing, della comunicazione che da sempre è un appassionata di informatica e che ormai lavora anche in questo ambito qui da un po'. L'arduo compito che mi è stato passato da Giulia è stato dire, devi spiegare la blockchain in maniera semplicissima come fosse a tua nonna, e quindi perdonatemi se farò degli esempi banali, ma sono necessari per riuscire a portare a un livello molto, a semplicizzarlo, insomma, perché è un argomento molto complesso. Intanto il quadro nel quale ci troviamo, non possiamo ignorare il quadro nel quale ci troviamo, che è quello del Covid, post Covid, o ci rientriamo, non lo sappiamo, e quando parliamo di blockchain siamo nell'ambito del digitale, della digital transformation, e quindi in una cornice più ampia, nella quale, grazie purtroppo per fortuna agli avvenimenti degli ultimi mesi, crediamo che siano passati dieci anni, cioè da febbraio ad oggi nel digitale non sono passati sei mesi o quelli che sono, sono passati dieci anni, perché se stiamo per esempio facendo la conferenza come stiamo facendo oggi, è una cosa che senza Covid probabilmente sarebbero passati due, tre, cinque anni, prima che potessimo accettare di partecipare online o di lavorare online o di lavorare a distanza, a distanza, il South Working che si è creato, cioè il fatto di cominciare a lavorare al Sud perché c'è una qualità di vita migliore e allontanarsi magari da Roma, Milano o da altre città. Quindi questo per dire che siamo in un contesto del digitale che già prima si stava muovendo molto velocemente, adesso è stato accelerato in maniera incredibile. È stato accelerato in maniera incredibile e ormai non possiamo fare più previsioni, nel senso che le previsioni che si facevano venivano fatte su dei dati. I dati che abbiamo fino a febbraio servono a poco perché il comportamento di noi consumatori è cambiato tantissimo da febbraio in avanti. Un esempio la casa, cioè le case con giardino o con un balcone hanno un prezzo molto più alto oggi rispetto a prima che invece magari 40 metri in quadri nel centro di nuovo di Roma o di Milano avevano un prezzo diverso. Adesso sto banalizzando per capire veramente di come si faccia fatica ora a dire abbiamo sempre fatto così ma alla fine negli ultimi anni abbiamo sempre fatto così. No, da febbraio ad avanti se già il digitale avanzava velocemente, oggi ancora di più. E andiamo sulla blockchain. Come spiegarla in maniera super banale? Provo a partire dicendo una frase. La blockchain è una struttura dati, è una struttura dati condivisa, elemento principale, è immutabile. Mi fermo qui per ora. Poi proviamo a dire che intanto la blockchain non è una tecnologia ma è un insieme di tecnologie, esattamente come anche per esempio l'intelligenza artificiale non è una tecnologia ma è un insieme di... e ci sono dei registri distribuiti. Allora proviamo a fare un esempio. Registri distribuiti, proviamo a immaginare, ok, il classico registro di classe, ma proviamo a immaginare che siano dei computer, perché alla fine la blockchain è una catena di nodi. Proviamo a immaginare una catena anche di nodi e quindi di computer, perché un nodo è un software che sta su, banalizziamo diciamo un computer. Immaginiamo che tutti noi che siamo qui in questa conferenza, ognuno di noi è un nodo, ognuno di noi ha un computer e ha un software collegato. Allora, la blockchain che non è nata, ieri è nata nel 2008 con Barra 2009, sono passati 11 anni e non è proprio uscita oggi, ma già all'epoca quando era uscita non era una tecnologia nuova, era un'idea geniale sul come mixare determinate tecnologie che erano già conosciute, la criptografia, i registri distribuiti, eccetera, eccetera. Torniamo all'esempio, ognuno di noi ha un computer, è un software ed è un nodo di questa catena di blocchi, vuol dire che su ognuno dei nostri computer immaginiamo che ci sia una struttura dati condivisa, quindi i dati sono su tutti i nostri computer e sono immutabili. Vuol dire che se io cambio qualcosa sul mio computer dei dati, su tutti i vostri computer arriva un alert o comunque dice guardate, Diego De Simone sta cambiando qualche cosa e senza entrare troppo nello specifico, tutti gli altri nodi possono accettare o non accettare questa modifica. Se avete domande intanto andate pure avanti o provo ad andare avanti. Faccio un salto di nuovo indietro, nel 2008 quando Satoshi Nakamoto inventa, scrive un white paper, cioè un documento nel quale racconta di questo che è della blockchain e nel 2009 la realizza. Intanto è difficile semplificare perché parliamo di blockchain spesso a sproposito, ma anche noi tecnici o non tecnici, perché per blockchain si dovrebbe intendere solo e unicamente quella blockchain lì che ha utilizzato il bitcoin come criptovaluta. Adesso arriviamo al fatto che non esiste blockchain senza la criptovaluta. Da lì in poi si è utilizzata la stessa tecnologia o delle tecnologie simili definendole sempre blockchain, poi qualcuno utilizza la B maiuscola o la B muscola. Ritorniamo all'esempio dei computer. Ognuno di noi ha un computer acceso, un software all'interno del quale ci sono dei dati immutabili e condivisi. Ma come faccio a convincere, come facciamo tra di noi a sostenere questi registri distribuiti? Perché il computer costa, i software costano e soprattutto nell'attività di mining che è dentro la blockchain ha un costo enorme l'elettricità. Ok, tant'è che noi in Botica eravamo miner, adesso non lo siamo più perché non conviene neanche più. Come faccio a ricompensare tutte le persone che hanno il nodo? Questa è stata la genialata di invenzione di Satoshi. Cioè creiamo una criptovaluta che si genera in un certo modo e quindi ricompensiamo tutte le persone che hanno i nodi o che fanno i miner con una criptovaluta che ha un valore e che si possono scambiare tra di loro. Ok, questo è il motivo per cui non si può parlare di, di nuovo su questo esempio qui, scusate, non possiamo parlare di criptovalute e non possiamo parlare di blockchain senza parlare di criptovaluta, in questo senso qua. Poi io sono un appassionato di criptovalute, di trading, di exchange, ma è un'altra cosa perché usciamo dalla tecnologia blockchain che invece ci interessa in questo ambito qua e per dire che vengono generate delle criptovalute, prendiamo sempre il bitcoin, e poi vengono messe su un mercato, quanto vale sul mercato il bitcoin? E lì entriamo nell'ambito della possibile speculazione, del dire che valore può avere o non avere. Entriamo anche nell'ambito a volte, anzi spessissimo, delle truffe, ok? La blockchain è veramente stata un'invenzione geniale. Provo ad andare avanti. Allora, non parliamo di un argomento per pochi, cioè ormai a livello mondiale, già prima del covid, tutte le banche centrali mondiali stavano ragionando sull'adozione o sulla creazione di blockchain, tutte le big companies da Facebook a Google, a IBM, a Ernest e Young, stanno lavorando sulla blockchain, stanno lavorando su progetti di ricerca della blockchain, quindi già questo dovrebbe farci immaginare che è una potenzialmente super tecnologia. Quali problemi risolve la blockchain? Perché siamo in ambito aziendale, stiamo cercando di capire che problemi può risolvere, dopo altri relatori andranno più nel tecnico, o meglio nel dettaglio, di alcune soluzioni che può avere la blockchain, perché come tutte le tecnologie, faccio sempre il paragone con l'intelligenza artificiale, da sola non serve a niente, la blockchain non serve a niente da sola. Serve se risolve un problema, in questo caso un'azienda. E per risolverlo nel 99% dei casi dovrà essere concatenata, mi viene l'esempio, insomma, dovrà essere vicina agli strumenti che l'azienda già utilizza, quindi dovrà essere integrata. Quali problemi può risolvere in generale la blockchain? Sicuramente quella della sicurezza e della vulnerabilità, sicuramente il tema della fiducia e del trust, perché i dati sono immutabili, sono condivisi, quindi vuol dire che se anche un computer va giù, una sede collassa, ce ne sono tante altre che hanno quell'informazione lì. Gestisce la privacy e le transazioni. Anticipo, volevo sfatare un po' di miti. Il primo è, non è vero che non si possono mettere i dati sensibili o che non è compliant al GDPR. La blockchain è assolutamente possibile conservare anche dei dati sensibili e visto che la criptografia, come tutte le tecnologie, stanno andando avanti, è possibile addirittura estrarre solo dati parziali di questi dati sensibili. Sei maggiorenne sì o no? Ha votato? È laureato? Quest'azienda ha il certificato antimafia, quest'azienda ha, faccio degli esempi banali, però per dire che ci sono tanti falsi miti su questo. E un altro problema che può risolvere la blockchain in alcune parti è anche il monopolio delle big companies. Pensiamo a Cambridge Analytica, pensiamo alle fake news, come faccio a certificare che delle notizie siano effettivamente successe o meno? Furti di identità sull'identità digitale, eccetera. Continuo a sfatare dei miti. Una cosa è stata scritta anche in questo evento è che potenzialmente, ed è corretto, possono sparire banche, notai e registri. Vero, ma solo potenzialmente è solo una parte del lavoro delle banche e dei notai. Cioè la parte a meno valore aggiunto, che è quello per una banca per esempio di certificare che Diego ha mandato 100 euro a Giulia e viceversa, o che Diego ha venduto una macchina a Giulia, per il quale abbiamo bisogno di un'autorità terza che certifica questo fatto qua, la blockchain, in quanto immutabile, in quanto condivisa, stiamo parlando di blockchain pubblica, poi dopo andremo a definirle, può risolvere questo problema qua, la blockchain. E può sostituire sia le banche e le notai su questo specifico argomento, sì, ma per fortuna per loro, almeno in parte, le banche e i notai non fanno solo questo, fanno anche da consulenti. Quando vai a fare un atto da un notaio, probabilmente il notaio da consulenti ti dà anche dei consigli. Cioè non è solo la sceralacca o il timbro di, almeno molte volte. Pensiamo al voto da remoto, è possibile votare in maniera certificata da blockchain. Pensiamo a questo periodo storico qui, dovessimo avere delle lezioni a breve, le abbiamo avute, ma sarebbe possibile farlo in questo modo. Noi stiamo lavorando, per esempio, su una fiera digitale, anche lo scambio dell'identità, chiamiamola identità digitale, biglietti da visita, attraverso la blockchain. E' possibile programmare dei trasferimenti e programmare delle azioni con i cosiddetti smart contract. Allora, vi do al volo il tempo che mi è rimasto. Ok, passerei. Non ho voluto fare una presentazione, vi faccio una brevissima, perché penso che già con il fatto che siamo a distanza è già brutto non vedersi, figuriamoci. Non posso condividere, Giulia. Se mi abilitate la condivisione schermo. Chiedo aiuto da casa, perché io sono nelle tue stesse condizioni tecniche. Ok. Proviamo. No. Va bene, la faccio, la mimo è lo stesso. Era una presentazione di recap un attimino. Abbiamo detto che blockchain siamo nell'ambito della digitalizzazione. L'ambito della digitalizzazione sta andando velocissimo. Il Covid è stato un acceleratore, perché quello che facciamo oggi, un esempio, in Botica ci occupiamo anche di fiere digitali. Abbiamo realizzato delle fiere digitali fino a gennaio, febbraio. Se qualcuno avesse detto vuoi partecipare a una fiera solo online, ci avrebbero dato dei pazzi e nessuno l'avrebbe fatto. L'ultima che abbiamo realizzato, abbiamo avuto più di 7000 accessi. Ok, adesso sono abilitato. Vedete la mia presentazione? Fra qualche secondo immagino di sì. Sì, la vediamo. Ok. Dicevamo, esistono tantissime blockchain. Adesso arrivo alla blockchain privata e pubblica. Ok. La blockchain con la B maiuscola è quella di Bitcoin. Poi sono nati tanti altri esempi di simile blockchain, chiamiamolo come vogliamo, che risolvono comunque dei problemi. A mio avviso hanno senso di esistere, assolutamente hanno senso di esistere, se risolvono dei problemi per il pubblico, per l'azienda, per il cittadino, quello che sia. Ecco, tante tecnologie creano complessità e costi di integrazione, a prescindere da quello. Dobbiamo velocemente, nei pochi minuti che mi restano, dividere tra blockchain pubbliche e blockchain private. Blockchain private già non si potrebbe dire, perché la blockchain può essere solo pubblica, ed è quella di Bitcoin, per capirci. La blockchain pubblica vuol dire che chiunque, nell'esempio di prima, tra di noi, ognuno di noi ha un computer, ha un software, ognuno di noi è un nodo di questa catena, se la blockchain è pubblica, vuol dire che chiunque può entrare in questa catena, che non c'è nessun ente terzo, che decide tu puoi entrare, tu non puoi entrare, tu puoi controllare o tu meno. Questo garantisce il fatto che non c'è un'autorità centrale che decide e quindi capite da soli che ha un'importanza elevata. Dopodiché ci sono anche delle blockchain private, non si può dire blockchain privata, però diciamo che è un sistema che utilizza le stesse tecnologie della blockchain, ma con un qualcuno che dice tu puoi entrare o tu no, piuttosto che io la controllo. Ok? E poi ci sono anche delle soluzioni ibride. Come vi dicevo, prima di tutto, ripeto, faccio il marketing, mi occupo di intelligenza artificiale, blockchain, e quindi uno dovrebbe dire da usare sempre, no? No. A livello di marketing può essere figo, bello dire uso la blockchain, uso l'intelligenza artificiale, ma prima di tutto dobbiamo chiederci, lo dico soprattutto per noi, lato aziende che forniscono queste soluzioni, è quale problema vogliamo risolvere con la blockchain, perché magari ci sono delle altre tecnologie, che, cartello letto, altre tecnologie che possono risolvere meglio la soluzione. Quando è utile, vado avanti, l'ho già detto, e una tipica integrazione azienda blockchain, è quello che dicevo prima, la blockchain da sola, il 99% dei casi, non serve a nulla, nel senso che non risolve un problema. e dobbiamo integrarlo all'IRP aziendale, quindi al gestionale aziendale, che parla con dei documenti, creare un middleware, un bridge, o comunque una connessione con la tecnologia blockchain, all'interno della quale poi verranno svolte delle azioni, smart contract, o quello per la quale decideremo che sarà utile integrare la blockchain. Vado con l'ultima slide, che è in quali ambiti aziendali può essere utile la blockchain. Veramente tantissimi, ne ho elencati alcuni, io vengo dal mondo bancario, sul fintech, sui pagamenti con smart card, ce ne sono veramente tante di possibilità, sull'identità digitale, sul poter gestire l'identità di una persona, immaginate il fatto che io possa dare un biglietto da visita a qualcuno, con i miei dati, e sapere a chi ho dato il mio biglietto, il mio biglietto da visita, e all'improvviso magari togliergli l'accesso ai miei biglietti da visita. Programmi di fedeltà, abbiamo fatto un POC su questo, quindi delle fidelity card, nel manufatturiero e nel medicale, su quale stiamo lavorando molto, sulla tracciabilità e sulla supply chain, grazie soprattutto alle nuove frontiere della crittografia, che come vi dicevo prima, permettono di far rimanere un dato anonimo, cartelle cliniche, e tirare fuori solo dei dati assemblati, cioè parliamo di covid, e gli infetti hanno tutti un cromosoma di questo tipo qui, piuttosto che altre informazioni. Nella pubblica amministrazione, nei governi per votare a distanza, ma anche nei CDA, nella manutenzione delle macchine, manufatturiero, ricerca e sviluppo per brevetti, diritti d'autore, musica, eccetera, eccetera. Io direi che il mio tempo dovrei essere stato nel tempo, Giulia, questi intanto sono i miei riferimenti, se volete. Prego Francesco, il campo è il tuo. Mi sentite? Buongiorno a tutti, sono Francesco Rovesti, sono team leader in iConsulting, e ringrazio il CISE per la disponibilità, insomma per l'opportunità che ci dà, e quindi grazie Giulia di averci invitato a parlare, e ringrazio anche Diego e Simone, perché in poco tempo, vista la complessità della blockchain, e di questo tipo di tecnologie, è riuscito ad introdurre, secondo me perfettamente, e quindi anche a aprirmi la strada, per andare un po' più velocemente, diciamo sulla soluzione, e visto il tempo ridotto, presentarvi proprio l'applicazione della nostra soluzione, per, diciamo, basata su blockchain, quindi condivido lo schermo, ditemi se lo vedete, sì lo vediamo, perfetto, bene, allora cosa abbiamo, cosa abbiamo fatto, scusate, cambia la, ok, adesso vedete tutto lo schermo, la slide, giusto? giusto, perfetto, grazie, allora, cosa abbiamo sviluppato, con iConsulting, abbiamo sviluppato, una soluzione, basata su blockchain, privata, come diceva Diego, per Missionet, dove, alla quale non tutti, possono partecipare, per una supply chain collaborativa, come ha detto Diego, la blockchain, di fatto che cos'è, è un database distribuito, ma dobbiamo pensarlo come un database, quindi, di fatto, da sola, non permette, non permette di fare molto, ha bisogno di un sistema, diciamo, middleware, è un front end, con cui poter, che permettono di dialogare, con la blockchain, noi abbiamo sviluppato, una soluzione, web based, quindi una piattaforma web, che appunto, fornisce i servizi, di integrazione, con la supply chain, e un front end, quindi, di fatto, è un sito web, a cui i partecipanti, i player, che partecipano, al progetto, non possono accedere, con le proprie utenze, e interagire, quindi, con la blockchain, e con i servizi, che abbiamo sviluppato, perché è una soluzione, per la supply chain, e abbiamo sviluppato, una soluzione, per un consorzio, di aziende, in cui, ci sono appunto, partner, che hanno, dei ruoli diversi, ma che non fanno parte, di uno stesso gruppo, quindi ogni azienda, tipicamente, scenario tipico, della supply chain, ha dei ruoli diversi, c'è il produttore, c'è il fornitore, c'è il fornitore di materiali, c'è quello che assembla, ci sono i distributori, i dealer, i venditori, e l'azienda, che fa il design, che ci mette il marchio, quindi, in contesti, molto complessi, di supply chain, ma anche, non necessariamente, molto complessi, comunque, in cui ci sono, più attori, è evidente, c'è uno scambio, sia di materiale, che di dati, di documenti, di informazioni, molto, consistente, molto importante, pensiamo, a, lo scambio, appunto, di, di bill of material, lo scambio, di documenti, certificati, documenti, tecnici, piuttosto che, lo scambio, di documenti, legati, al day by day, quindi, alle, agli ordini, di vendita, agli ordini, di acquisto, quando, questi player, non sono, integrati tra loro, quindi, hanno dei sistemi, informativi, non integrati tra loro, come il caso, tipico, appunto, di contesti, in cui, le aziende, non fanno parte, di uno stesso gruppo, ma, appunto, hanno, magari, sistemi diversi, sistemi, IRP, piuttosto che, gestionali, legacy, quindi, sviluppati, magari, internamente, piuttosto che, magari, scambio di documenti, via, cosa avviene, lo scambio di documenti, via Excel, o via mail, e quindi, una scarsa integrazione, no? Quindi, si generano, delle inefficienze, appunto, dovute, a una scarsa integrazione, integrazione di questi, puntatore laser, che sono più chiaro, una scarsa integrazione, un'inefficienza, costi dovuti, a una duplicazione, di documenti, di copie, e, spesso, oltre alla duplicazione, di documenti, cosa accade, anche, che è difficile, parlare la stessa lingua, perché pensiamo, che in ogni, IRP, in ogni sistema gestionale, i codici, cioè i prodotti, potrebbero avere, dei codici diversi, dei nomi diversi, non sempre, c'è visibilità, e trasparenza, delle, delle bill of material, piuttosto che, ecco, costi dovuti, anche ad error, di inserimenti manuali, e, credo che sia, diciamo, un po', all'ordine del giorno, per tutti quelli che, lavorano in contesti, no, con aziende, che partecipano, alla stessa supply chain, la blockchain, può risolvere, questo, questi problemi, in che modo? Con una soluzione, ma quella che abbiamo sviluppato, che permette di integrare, i sistemi informativi, delle varie aziende partecipanti, appunto, alla blockchain stessa, tramite dei servizi, delle API, dei servizi di integrazione, degli importi, che si possono fare, di dati, e di documenti, e, quindi, è come se fosse un, un ERP, condiviso, web, ovviamente, è un ERP, semplificato, in un certo senso, che non, offre, il livello di profondità, di features, di, di funzionalità, di un ERP, come può essere SAP, però, è possibile, tramite un motor di workflow, poter, disegnare, e di implementare, dei processi, di scambio, di informazioni, il, diciamo, custom, no, quindi personalizzati, per il contesto, in cui, in cui siamo, e, tra le funzionalità, principali, che, diamo, mettiamo a disposizione, con, con la nostra soluzione, cosa c'è? C'è un, prodotto, un catalogo, messaggio, in chat, che, a cui cercherò, di rispondere dopo, quindi, un catalogo, condiviso, il catalogo, può essere, un catalogo, prodotto, diciamo, semplice, che raccoglie, gli attributi, del, del, del prodotto, del prodotto finale, piuttosto che, proprio, delle, le bill of material, condivise, a livelli, con i vari livelli, di, di, di materiali, di, di, che compongono il prodotto, e, di componenti, e, delle operazioni, che devono essere, fatte per assemblarlo, o per produrlo, e, quindi, catalogo, prodotto, anche per avere, un business glossary, condiviso, poi, una gestione documentale, appunto, di certificati, documenti tecnici, quali possono essere, data sheet, due minuti, ok, cerco di stringere, e, in questo caso, i documenti, tante volte si chiede, ma sono salvati, sulla blockchain, e, allora, i partecipanti hanno, come diceva, prima, Davide, che mi ha, che mi ha preceduto, ogni partecipante, ha un nodo, con la propria, appunto, con la propria blockchain, il proprio nodo, i documenti, possono essere salvati, su cloud, multi cloud, quindi, totalmente cloud, perché possiamo avere, sistemi ibridi, e, la blockchain, però, cos'è che è salvato, sulla blockchain, l'indirizzo, di questi documenti, quindi, i documenti, non sono raggiungibili, se non si passa, per, per la blockchain, il fatto che, ci sia uno strato, middleware, con dei servizi, permette anche, di gestire, diciamo, le visibilità, no, perché all'interno, di una supply chain, in cui, i partecipanti, sono aziende, che fanno parte, di un gruppo diverso, ci sono anche, dei, ovviamente, dei dati, che non, non sono, non possono essere distribuiti, completamente, totalmente, tra tutti, e visibili tra tutti, e questo, è quello che, un po', permette di fare, la blockchain, privata, per Missionary, e il vantaggio, rispetto ad altri sistemi, è che, chiedono, qual è la differenza, fra risolvere i problemi, di una supply chain, con modalità, blockchain, piuttosto che via, EDI, allora, i nodi distribuiti, il database distribuito, della blockchain, comunque, permette di, mettere in sicurezza, appunto, i dati, e tutti, i partecipanti, che caricano, i propri dati, i propri documenti, sanno che, non possono essere, diciamo, manomessi, dagli altri partecipanti, quindi c'è una sorta, proprio di fiducia, ma anche di protezione, dei propri dati, in un, in un sistema, in un database distribuito. Spero di essere stato, nei tempi, volevo, anche magari, in un minuto, se ce l'ho, se me lo concedete, farvi vedere, appunto, l'ala, due, due screenshot, proprio, della soluzione, se vediamo, se la connessione, mi supporta, comunque, vedete che, appunto, adesso, la connessione è un po' lenta, meno il catalogo, vorrei farvi vedere, il catalogo prodotto, quindi, abbiamo, sviluppato, questa soluzione, che in questo caso, è, per la soluzione, nel mondo dell'alta moda, dell'occhialeria, quindi, un consorzio, di aziende, italiane, ma, l'azienda, diciamo, che distribuisce, gli occhiali, è famosa, in tutto il mondo, occhiali di alta moda, e, di alta gamma, e, quindi, abbiamo creato, in questo caso, stiamo provando a caricare, il catalogo condiviso, a cui i partecipanti, hanno accesso, i partecipanti, appunto, della, del consorzio, vanno a integrare, tramite questa piattaforma, il catalogo condiviso, con i propri, i dati, dei materiali, che loro vanno ad assemblare, o a, fornire, no? Quindi, è una sorta di catalogo arricchito, che, di fatto, permette anche, poi, in futuri sviluppi, di, in un'ottica di trasparenza, anche, verso, verso il cliente, e qui chiudo, anche dare informazioni, su quali possono essere, i materiali, di cui l'occhiale è composto, da dove arriva, se è made in Italy, la percentuale, di made in Italy, quindi, una sorta di catalogo arricchito, che poi potrà essere utile, anche, verso il cliente, il consumatore finale. Se avrete, se avete domande, o volete approfondire, questa soluzione, visto che il tempo è stato, appunto, limitato, potete contattarmi, mi trovate anche su LinkedIn, Francesco Rovesti, ai consulting, e poi, credo che Giulia, e i, come si dice, gli organizzatori, scusate, del webinar, vi forniranno, tutte le, le indicazioni, per poterci, raggiungere, contattare. Assolutamente. Grazie, grazie ancora, e un buon proseguimento, a tutti. Grazie Francesco, chiedo a Nicola, e a Piero, Nicola, che vedo già, inquadrati, di prendere la parola. Ti sentiamo molto piano, ti sentiamo molto piano. Così come va? Meglio. Va un po' meglio? Sì, sì. Allora, mi chiamo Nicola Gissa, sono un ricercatore, del laboratorio, Crosstech, dell'Enea di Bologna, oggi vi parlerò, fondamentalmente, di un progetto, un smart chain, un progetto regionale, che ha come suo obiettivo, quello di mettere a punto, delle soluzioni basate, su tecnologia blockchain, per affrontare, dove alcuni problemi. Provo a condividere lo schermo, vediamo un po' se, mi riesco nell'operazione, in maniera correttamente, non so, vedete, vedete la presentazione? Sì, la vediamo. Ok, niente, allora, in questi 15 minuti, vi parlerò, di questo progetto, e specificatamente, di un caso d'uso, di questo progetto, all'interno del settore moda. smart chain, è un progetto, che nasce da un bando, della regione Emilia Romagna, l'obiettivo è quello, di analizzare, in alcuni scenari, alcuni problemi, relativi alla certificazione, al tracciamento, in alcuni settori specifici, e di mettere a punto, delle soluzioni basate, su tecnologia blockchain, e quindi, delle nuove piattaforme innovative, trovando anche, soluzioni software, per affrontare questi problemi, e possibilmente, anche aprire, nuove dinamiche di mercato. I settori, che il progetto, ha preso in considerazione, sono quello, agroalimentare, quello della produzione, di macchinari, o di tecnologie, per la produzione di alimenti, poi, o meglio a questo punto, e, altro use case del progetto, è nell'industria della moda. Il progetto, è partito, poco più di un anno fa, quindi, non è attivo da moltissimo, poi, chiaramente, ha avuto, diversi problemi ritardi, anche a causa, della nota pandemia. I laboratori, che collaborano, all'interno di questo progetto, sono i laboratori, della rete regionale, sono, quello per la sicurezza, e prevenzione dei rischi, dell'Università di Modena Reggio Emilia, per l'Università di Bologna, c'è il, Ciri AST, Centro Interdipartimentale, di Ricerca Industriale AST, il laboratorio, MECLAV, per l'Università di Ferrara, noi, dell'Enea, come laboratorio, Crostec, e per l'Istituto Nazionale di Fisico Nucleare, il TT Lab. Insieme a questi laboratori, della rete, sono state coinvolte, alcune imprese, di diversi settori, come ho detto prima, per poter, avere delle collaborazioni, e aiutarci a creare, gli scenari, mettere a fuoco i requisiti, per le applicazioni, e fare anche, successivamente, sperimentazione, validazione, dei sistemi, che saranno, poi sviluppati. Quindi, il ruolo dell'impresa, è quello, soprattutto di aiutarci a entrare, dentro i problemi, e capire un pochino, delle esigenze, quali sono i requisiti, per poter, avere delle soluzioni, effettivamente adottabili. Per il settore moda, dal distretto di Samor Pascoli, l'impresa Bianco Accessori, è quella che partecipava al progetto, e in questo caso, il problema, che si è messo a fuoco, Nicola, scusa, ti interrompo un secondo, per chiederti, di tenere il microfono, più vicino, un pochino più stabile, perché, sentiamo un po' di disturbo, grazie. e provo a sentire, un po', così, se mi sentite meglio? Sì, direi di sì, perché quello che dice, è molto interessante, è un peccato non sentirlo bene. Allora, dicevo, per il settore di Samor Pascoli, il problema, che stiamo mettendo a fuoco, è quello della gestione, delle certificazioni, della tracciabilità, della supply chain, più avanti, dopo qualche dettaglio in più, perché appunto, questo è lo use case, oggetto della presentazione. nel settore agroalimentare, l'impresa coinvolta è stata Carpigiani, produttrice di macchine per gelato, e quindi l'use case è sicuramente differente, perché l'obiettivo è quello di avere, applicare queste tecnologie per monitorare, controllare e certificare l'utilizzo e la manutenzione dei macchinari, e quindi macchinari che sono dati molto spesso, come dire, in affitto a chi va poi a produrre gelato, e si deve costantemente monitorare, che tipo di utilizzo, in maniera certificata, viene fatto di queste macchinari. Cito anche il consorzio del formaggio parmigiano-reggiano, che partecipa a questo progetto, appunto per vari problemi, lo use case relativo a quest'ultimo, il soggetto non è stato ancora messo a fuoco, e riguarderà chiaramente l'ambito agroalimentare. Parliamo più nello specifico del caso, dello use case per il settore moda. Allora, il nostro contesto è quello di San Mauro Pascolo, un distretto per la fornitura di componenti, calzatura di alta e altissima gamma. Qual è l'obiettivo principale? Rendere esplicito il valore del distretto, il valore della rete, il valore di queste imprese, che collaborano fra di loro, in maniera molto professionale, e per la produzione appunto di accessori di altissima gamma, dare valore a queste relazioni e a questo distretto di produzione. Diciamo che qua ho citato una frase, se si lavora qui, ci sono alcuni parametri di sostenibilità che sono certamente rispettati, possiamo dire che ci sono delle conoscenze, comunque delle sottintese per certi versi, noi vogliamo far emergere e rendere comunicabile il valore di questa filiera, quindi far emergere la rete che opera all'interno di questo distretto e dare valore a questa rete. Questo preservando chiaramente gli asset aziendali e cercando di coniugare questo sforzo con la semplificazione del carico di lavoro che le imprese hanno per la gestione della documentazione e dei certificati. Cioè migliorare l'efficienza della gestione delle certificazioni che queste imprese sono tenute a produrre. Alcuni dati su questo distretto su cui stiamo operando. Il numero delle imprese si aggira intorno ai 150 elementi. Le aziende sono di tipo diverso, chiaramente, alcune sono monocommittenti, altre, come bianche cessori, in una stagione possono lavorare fino a 20 committenti. Chiaramente sono estremamente diversificati per tipologia, dimensione e per la gestione del lavoro. Queste imprese sono sottoposte a audit perché da parte dei committenti c'è la necessità di avere, diciamo, delle garanzie, quindi i committenti tipicamente incaricano altre aziende, altri privati, che si presentano in azienda una volta all'anno per vedere la documentazione, la certificazione che le imprese sono tenute a produrre in tema su diversi temi. Ogni committente chiede attestazioni che non sempre conciliano tra loro perché ogni committente ha le proprie esigenze sulle garanzie che si vuole vedere, diciamo, attestate. I temi sono chiaramente sicurezza, ambiente, tutela dei lavoratori, però appunto non c'è uniformità fra i committenti nella richiesta di queste certificazioni. Allora, nel lavoro all'interno del progetto è stata fatta con l'impresa una prima analisi di quali potevano essere gli scenari e i problemi importanti da affrontare in tema di tracciabilità. Il primo problema forse il più semplice diciamo a un certo punto semplice poi per modo di dire perché ha tanti incogniti e tanti rischi insomma è quella di dare trasparenza appunto e certificazione aziendale. Quindi si tratta di riuscire a identificare i soggetti del distretto, i soggetti che fanno parte della rete e risalire alle relazioni e poter dare visibilità delle varie catene di fornitura. Quindi si tratta di ricostruire le relazioni fra gli soggetti della rete. Associando a questo anche delle certificazioni perché è importante risalire diciamo alle catene di fornitura se hanno delle certificazioni su tale catene che danno appunto garanzia della qualità della stessa catena. Questo è il primo problema ricostruire la rete. Il secondo problema era un pochino più pratico relativo ai terzisti cioè dare garanzia dei committenti la blockchain poteva dare essere utile per garantire ai terzisti l'impegno davanti a ordini particolarmente onerosi. I terzisti quando si trovano a lavorare con ordini particolarmente gravi possono avere dei problemi ad assumere questi ordini ma dare una garanzia che dietro a tali ordini ci sono committenze diciamo importanti brand importanti consente diciamo appunto di lavorare con maggiori fiducia all'interno della rete. Il terzo punto è la tracciabilità dei processi di business che è legato sicuramente al primo punto ed è un passo ulteriore perché mentre nel primo si certifica la rete nel terzo punto si vanno a registrare anche le relazioni vere e proprie in termini di scambio di ordini di consegna delle merci e di tutti i documenti di business che vanno a essere scambiati quindi è un passo ulteriore appunto nel tracciare le relazioni noi ci siamo con noi insomma all'interno del progetto ci si concentra sul primo punto un po' per la semplicità ma anche perché è lo step iniziale per poi andare oltre nello sviluppare successivamente delle altre delle altre funzionalità quindi l'idea è quella di registrare la rete all'interno di questo problema abbiamo anche quello di gestire le certificazioni per dare appunto garanzia sulle catene di fornitura e quindi si fa un ragionamento su quali sono i documenti che possono essere interessanti e possono essere oggetti di certificazione su blockchain qua una prima lista che viene stata scritta appunto insieme ai partner aziendali quindi documenti che possono disciplinare regolare aspetti della sicurezza possono diciamo essere relativi alla registrazione dei pagamenti alla documentazione sul personale ad accordi sindacali certificazioni aziendali come DURC ci sono tutta una serie di documenti di vario genere che rappresentano la certificazione che le imprese devono produrre e che possono essere oggetto di notarizzazione attraverso blockchain come scenario di sviluppo abbiamo preso in considerazione varie alternative e qui brevemente dico io non andrò a descrivere la parte applicativa la parte tecnica direi brevemente che si punta a sviluppare un'applicazione web con opportune interfacce utente che consentano appunto che forniscono le funzionalità agli utenti per la notarizzazione delle certificazioni la registrazione delle relazioni di business è la possibilità anche poi di visionare accedere e verificare i documenti e le informazioni garantendo anche eventualmente molto importanti diversi livelli di accesso a queste informazioni perché ricordiamoci che poi dietro a queste relazioni ci sono anche delle competenze insomma anche degli aspetti molto critici per le aziende nella gestione del proprio business e nella privacy stessa delle proprie relazioni quindi come scenario di sviluppo cercheremo di puntare su un'applicazione web per gestire queste funzionalità altri requisiti che sono emessi all'interno di questo settore per dare un po' il contesto del lavoro che stiamo cercando di produrre è quello che nella maggior parte stiamo parlando di aziende piccole moltissime non hanno ERP aziendali è un caso molto comune quindi bisogna avere a che fare con questa situazione qui perché non si può obbligare ad acquistare un ERP per poter passare a queste soluzioni ci sono aspetti di privacy di sicurezza certamente come ho detto non abbiamo un problema di prestazioni perché il volume delle transazioni non è un volume eccessivo almeno per quanto riguarda quello che vogliamo regolare in questa fase e quindi non abbiamo un problema di questo genere ben importante è tenere d'occhio la sostenibilità economica e la usabilità della soluzione perché le imprese abbiamo detto sono medie o più probabilmente piccole all'interno di questo distretto le soluzioni sono rivolte quindi a soggetti che possono avere difficoltà dal punto di vista economico su certe dimensioni quindi bisogna tenere d'occhio la sostenibilità economica della soluzione ma anche l'usabilità perché la soluzione deve essere in qualche modo facile da usare installare e mantenere le funzionalità quindi che stiamo progettando e che andremo a sviluppare all'interno di questo progetto sono a parte la banale registrazione della grafica aziendale il primo punto le altre funzionalità ben più interessanti attraverso la blockchain sono quella di registrare certificazioni o altra documentazione quindi ogni impresa può mettere su blockchain i propri certificati ma anche fornire indicazioni sui propri fornitori quindi dare una visione della propria rete di collaborazioni appunto questo punto legato alle certificazioni delle imprese da solidità e da garanzia sulla qualità diciamo della filiera della fornitura appunto anche questo molto importante è quello di gestire in maniera flessibile la visibilità di alcune informazioni perché alcune imprese possono non avere piacere che certe informazioni vengono fuori o che vengono fuori verso altre persone o vogliono poter gestire chi può vedere certe informazioni tutti indistintamente utenti generici i propri clienti alcune imprese specifiche e quindi c'è sicuramente da mettere a fuoco la gestione di questa flessibilità sulla visibilità di alcune informazioni adesso quali sono i vantaggi di questa attività questo è un punto abbastanza importante perché questo va comunicato poi all'impresa del distretto io sono partito da un'affermazione migliorare la gestione documentale in realtà qui forse sembra posso anche contraddirmi ma non è così una presa di coscienza dice che è difficile scardinare certe realtà a certe procedure quindi la gestione la digitalizzazione e la gestione documentale parla passare dal cartaceo un sistema basato su blockchain è un obiettivo che è perseguibile nel lungo periodo non è pensabile in poco tempo scardinare queste costitudini queste modalità lo si vuole fare ma non è l'obiettivo che ci che dà subito una diciamo un vantaggio all'impresa i vantaggi i vantaggi che possiamo diciamo ottenere più rapidamente sono quelli dal punto di vista del marketing e del prestigio di un distretto che si dota di una certificazione basata su blockchain che attesta appunto le imprese i certificati che sono messi a disposizione le catene di fornitura e tutto questo qua c'è sicuramente quindi la possibilità di esporre queste informazioni e eventualmente anche di creare un marchio di distretto un marchio di qualità per il distretto legato a queste tecnologie per la tracciabilità in questo senso poi questa sperimentazione è proprio un primo passo anche per le imprese nell'automazione di questi processi altri vantaggi sono chiaramente legati in parte a questa creazione del marchio cioè creare una forte identità nell'impresa e nel distretto davanti al mercato nazionale e internazionale quindi caratterizzare fortemente il distretto mostrare la capacità di innovare e di adottare nuove tecnologie per rendere più efficiente il proprio business per le imprese diciamo così dal loro punto di vista da non sottovalutare l'apprendimento di queste tecnologie quindi una predisposizione tecnologica dell'azienda a queste nuove procedure a queste nuove tecnologie che possono essere adottate per risolvere problemi come quelli che ho descritto ma anche per risolvere problemi di tipo differente quindi c'è già un'attitudine a creare un'attitudine differente nelle imprese e nel distretto a queste innovazioni è ultimo ma non per importanza come si dice questo sistema dà una maggiore visibilità sui propri partner quindi consente anche di essere più efficienti nel scambiare informazioni dal punto di vista delle certificazioni e di avere affidabilità all'interno dei propri fornitori questa è l'ultima slide sui vantaggi del progetto che ripeto andrà avanti ancora per più di un anno e cercherà poi di attuare alcune logiche anche in altri settori qui mi sono soffermato a parlare del settore della moda quindi io avrei chiuso qui questi sono i riferimenti miei di Piero e anche il link al progetto per chi fosse interessato a queste attività ovviamente può contattarci o può andare anche sul sito pian pianino e cominciare a vedere le prime informazioni che sono disponibili direi che è tutto perfetto grazie scusate se ho dormito il passaggio del cartello ma ho avuto un attimo di problemi Marco Crotta lo vedo già in video quindi a lui la parola grazie buongiorno grazie dell'invito avrei bisogno anch'io di fare la condivisione delle slide se è possibile vediamo se riesco allora intanto comincio a raccontarvi un po' il senso del mio intervento che si rifà molto alla domanda che ci viene posta all'interno di questo webinar quindi se la blockchain vuol dire garanzia un po' in maniera provocatoria quello che vorrei trasmettervi è il fatto che no in realtà no la blockchain non vuol dire to cure garanzia soprattutto se non ci sono tutta una serie di condizioni al contorno questo deriva ora vediamo le slide vedete le slide? sì perfetto benissimo allora sono Marco Crott quindi lavoro con Foodchain che è appunto l'azienda che fa la tracciabilità alimentare basata su tecnologia quadrants che è stata realizzata dalla stessa azienda resa pubblica disponibile ovviamente open sono un divulgatore ho partecipato a un TEDx sono attivo adesso con più o meno quasi 400 video su YouTube per spiegare in maniera semplice e concreta che cos'è questa questa tecnologia e ovviamente sono un tecnico quindi non farò una presentazione diciamo in stile televendita cercherò di trasferirvi qualche concetto importante innanzitutto cominciamo a vedere qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo e perché a un certo punto stiamo parlando di blockchain e cos'è quello che vogliamo andare a ottenere ci sono un sacco di benefici alcuni dei quali abbiamo già visto sono stati già raccontati da chi mi ha preceduto quindi possiamo vederli molto velocemente elencati quindi una riduzione dei costi un aumento della trasparenza una serie di vantaggi che vengono soprattutto dati in realtà win-win sia a chi adotta la lo cena a livello dell'azienda ma anche soprattutto quando si tratta ai nostri clienti diretti o indiretti che siano fino al consumatore finale quindi le parole d'ordine assolutamente da gestire e da tenere presenti quando si parla di prodotti e di soluzioni in blockchain sono queste la trasparenza il fatto di essere responsabili responsabilizzati rispetto a quelli che sono le cose che vengono messe in blockchain perché questa blockchain deve essere assolutamente immutabile quindi i dati che un produttore va a scrivere in blockchain sono e devono essere assolutamente immutabili perché questo rappresenta il suo commitment rappresenta quindi l'impegno che il produttore sta prendendo con tutta quanta la realtà con cui si interfaccia siano essi i propri fornitori ma soprattutto i clienti è sempre così abbiamo sempre questi elementi purtroppo no quindi vi racconto brevemente quelli che nella nostra esperienza analizzando diciamo il processo di crescita di food chain ma anche confrontandoci con molte realtà diverse della nostra quindi anche con dei competitor quali sono gli elementi che troppo spesso purtroppo si vedono in progetti relativi alla blockchain e che fanno completamente naufragare i migliori intenti di questa tecnologia e di chi l'adotta il sunto del discorso è questo la blockchain nasce per risolvere dei problemi legati all'avversario al thinking cioè ovvero il fatto di sapere che siamo in un ambiente dove purtroppo si bara dove ci sarà sempre qualcuno che ha l'intenzione di barare come ci ha spiegato Simone all'inizio fondamentalmente nasce per bitcoin per riuscire a risolvere questo problema e molti altri e quindi la radice dello strumento è questa e ricordiamoci che il motto di questa tecnologia è sempre quello don't trust verify cioè non fidarti controlla quindi il concetto è dobbiamo sempre metterci in una condizione in cui sappiamo che l'ambiente in cui stiamo lavorando potrebbe presentare degli attori disonesti o che hanno dei comportamenti opportunistici e essere dalla parte di chi riceve un prodotto un'informazione e mettersene sempre la domanda in testa che cosa vorremmo verificare e su che cosa vorremmo avere della trasparenza quindi quali sono questi sette peccati capitali che abbiamo il primo è quello di utilizzare una blockchain privata purtroppo è una tentazione che capita spesso come ha detto giustamente anche Simone sono tecnologie un po' diciamo nate per scegnotare delle soluzioni reali e per fornire un po' dei palliativi a dei clienti perché perché la blockchain molto spesso viene detto è disrattibile cioè ci costringe a fare un cambiamento di paradigma sui concetti che abbiamo in testa e mettere in discussione un sacco di cose cose che a noi bipedi purtroppo crea un po' di difficoltà perché siamo dei soggetti che siamo molto legati all'abitudine quindi siamo molto abituati al si è sempre fatto così cosa che appunto in questo periodo di covid viene messa anche in discussione e queste sono diciamo tutte quante le convinzioni che un cliente un produttore ha in testa quando dice vorrei una blockchain privata perché perché credo di avere più controllo sui dati o lo voglio perché voglio tenere i miei dati privati perché ho l'impressione che il pubblico sia un ambiente caotico come già stato detto che non sia GDPR compliant o magari perché voglio avere la possibilità posteriore di cambiare i dati che ho messo in questa blockchain e preferisco magari comprare una soluzione perché credo che sia più sicura in realtà tutti questi elementi sono falsi sono stati già propriamente dimostrati sarei falsi da più o meno una dozzina d'anni e il concetto della blockchain è che uno non vuole avere il controllo sui dati nel momento in cui una blockchain qualcuno ha il controllo sui dati o nel momento in cui quella blockchain è di qualcuno forse anche un ristretto gruppo di persone non di video quella blockchain rimane assolutamente inutile perché cessa di avere le scaratteristiche fondamentali che sono quelle che conosciamo che abbiamo sentito che fondamentalmente sono quelle che ci portano qua ad essere collegati oggi le blockchain private non hanno queste caratteristiche soprattutto dal punto di vista della sicurezza non c'è nessuna dimostrazione del fatto che una blockchain privata sia più sicura anzi esattamente vero il contrario ci sono molte differenze tra le pubbliche e le private diciamo che le parti su cui dovremmo mettere attenzione sono quelle diciamo in verde quindi il fatto di avere delle soluzioni che siano completamente avulse dal concetto di fiducia e quindi anche di garanzia perché il concetto principale è la verifica autonoma indipendente quello è l'elemento fondamentale di una soluzione in blockchain la sicurezza è stata dimostrata da bitcoin quando la blockchain di bitcoin teneva all'interno l'equivalente di 820 billion di dollari e da lì non è mai sparito un centesimo non è mai stato possibile far sparire un centesimo ma soprattutto sono soluzioni che alla fine sulla lunga per l'azienda sono molto più affidabili e sono anche molto più economiche se volete dei dettagli su questo posso darveli dopo per il momento fidatevi per questioni di tempo non posso andare su tutti quanti i dettagli e per fare un piccolo scherzo se volete l'equivalente della situazione che abbiamo tra pubblica e privata è questa la pubblica potrebbe essere una realtà che magari non vi piace sembra un po' macchinosa ma fondamentalmente come la stella di Rosetta che rimane scritta lì per migliaia di anni e che ci aiuta a capire il passato quando invece utilizziamo una blockchain privata è come se avessimo pagato tantissimo la penna più bella del mondo per poi utilizzare per scrivere dei post-it perché i dati scritti su una blockchain privata non hanno garanzia né di mutabilità né di durata eterna semplicemente perché vivono su un ristretto numero di computer che a un certo punto qualcuno può decidere tranquillamente di spegnere o di manomettere cosa che con le pubbliche non è assolutamente affattibile quindi diciamo le pubbliche hanno tutta una serie di vantaggi che sono quelli che appunto ci portavano qui e rispetto a quelli che sono le nostre keyword di prima vediamo che l'elemento fondamentale è quello prima di tutto dobbiamo usare una blockchain pubblica soprattutto per quello che riguarda la tracciabilità vado un po' più veloce sugli altri abbiamo un sacco di applicazioni che usano sistemi centralizzati di accesso ai dati questo QR code è su un prodotto di un nostro competitor che diciamo mette la mozzarella in blockchain è lo stesso QR code da due anni a questa parte non cambia mai perché vuol dire forse c'è qualcosa di identico in tutti quanti i lotti è possibile che tutti i lotti di mozzarella siano tracciati allo stesso modo no deriva da una brutta implementazione quale? quella di avere il QR code che viene scansito il QR code ha un URL corto passato ad un shortner quindi abbiamo un URL corto tipo quelli di Twitter che poi invece puntano dopo a essere passati verso attraverso un database ci portano al sito reale lì il sito reale siccome siamo arrivati lì ma non sappiamo perché siamo arrivati lì non sappiamo quale lotto corrispondeva quel QR code ci viene chiesto ad esempio quale è il lotto e solo dopo aver guardato nel nostro database sappiamo quel lotto quali sono gli elementi in blockchain che dovrebbero darci delle garanzie e andiamo a prenderli cosa c'è di sbagliato in questo approccio? praticamente tutto perché tutti gli elementi che vedete con una croce rossa sono elementi in cui l'azienda per errore o per dolo potrebbe andare a alterare il flusso dell'informazione potrebbe andare a mettere qualche cos'altro soprattutto sulle parti dei database perché non c'è un controllo diretto perché ci sono degli elementi che sono opachi su cui viene a mancare quello che c'è prima la verifica diretta ed indipendente questo cosa comporta che la soluzione non ha molte possibilità se volete un QR code diverso vi faccio vedere questo passo secondo me il tempo è tirannissimo a quanto pare abbiamo molte soluzioni che registrano dati inutili quindi semplicemente vengono utilizzate per marketing e quindi non abbiamo nulla di utile da verificare abbiamo anche elementi per cui vengono utilizzati i sistemi di notarizzazione cosa vuol dire vuol dire che mettiamo dei documenti in blockchain e pretendiamo di dire che quella è tracciabilità quella non è tracciabilità quella è notarizzazione vuol dire semplicemente fare un timestamping di un dato ma non è sufficiente a dirci che cos'è veramente successo nella nostra filiera perché la nostra filiera somiglia molto di più a qualcosa di questo genere dove ogni singolo elemento può essere una lavorazione può essere un elemento di un altro tipo vi vorrei far vedere quello che adesso è ad esempio una delle soluzioni che stiamo adottando e che ci permette di descrivere un po' meglio quello che è una filiera noi stiamo adottando questo modello qui dove abbiamo una serie di passaggi ogni singolo nodo volendo può permetterci di andare a vedere che cosa è successo prima di quel nodo fino ad andare a completare l'intera filiera ed è con questo tipo di sguardo che possiamo andare a capire veramente che cosa succede tenendo presente che ovviamente ognuno di questi elementi è in blockchain e quindi è veramente immutabile soprattutto verificabili da terze parti siano esse non so ad esempio i NAS o forse anche il nostro competitor perché nel momento in cui facciamo qualche cosa di fatto bene non abbiamo problemi a farci controllare anche evidentemente il nostro competitor ci sarebbe una parte interessante su come vengono scritti gli smart contract in particolare perché molti abbiamo trovato ci sono degli smart contract di soluzioni che sono pieni di bug in particolare bug che permettono ad esempio la riscrittura dei dati o comunque la modifica posteriore dei dati abbiamo anche avuto casi vi faccio vedere molto brevemente in cui altre realtà anche piuttosto blasonate ci hanno raccontato uno scenario di questo tipo quindi dove ad esempio abbiamo smart contract di questo tipo dove le grandi soluzioni vengono reclamizzate ma poi fortunatamente ecco la blockchain è trasparente e ci permette di andare a controllare che cosa succede alcune soluzioni hanno la bellezza di 42 transazioni fatte vuol dire 42 registrazioni è un test fondamentalmente ma la cosa più interessante è che possiamo anche vedere che avvengono tutte quante nello stesso periodo quindi in fase diciamo di promozione e che gli smart contract che utilizzano come vedete sono molto molto semplici fondamentalmente questi smart contract hanno due possono creare diciamo così la semplifico molto due tabelle di Excel e qui insomma vediamo che ad esempio se pensiamo che due tabelle di Excel siano in blockchain anche per quanto in blockchain siano sufficienti per fare della tracciabilità probabilmente siamo abbastanza fuori da quello che effettivamente la blockchain dovrebbe essere quindi questo è un po' provocatoriamente la risposta di Foodchain vi dico la realtà è che dovremmo fare molto più attenzione a capire che cosa viene proposto in blockchain e cosa viene garantito a essere in blockchain perché la blockchain non garantisce la blockchain deve dare dei dati e i dati devono essere verificabili in maniera indipendente da tutti poi magari il consumatore finale non lo potrà fare ma magari un'associazione dei consumatori sì ed è la chiave di tutto è la trasparenza la verifica indipendente vi lascio semplicemente con i nei contatti se doveste avere necessità di approfondire qualche cosa sono stato cercato di essere velocissimo purtroppo gli argomenti sono tanti ci sarebbe molto volendo da approfondire se avete bisogno sono a disposizione grazie Marco sì davvero lo dico per i relatori lo dico anche per i partecipanti l'obiettivo di questi webinar è perdonate il termine un'infarinatura per cui per qualsiasi approfondimento se i relatori ce lo ce lo concedono condivideremo con i partecipanti i contatti di modo che poi possano anche seguire approfondimenti relazioni networking come si dice vedo che si è preparato Mubricci prego grazie anche io per la condivisione schermo così proietto quello che è il il nostro progetto che è già stato realizzato che è già stato implementato i cui risultati sono già stati presentati nell'anno scorso alla fine dell'anno scorso in Camera di Commercio di Foggia perché noi abbiamo realizzato la prima blockchain italiana applicata alla produzione del pomodoro pelato progetto pelato in rete progetto che ha avuto visibilità ed è stato ospitato anche alla FAO nell'anno scorso dove l'elemento innovativo di questo progetto io adesso non parlo di blockchain io sono il CEO di un'azienda che è a sede presso Trentino sviluppo spa non parlo di blockchain perché sapientemente come c'è già stato dimostrato chi mi ha preceduto ne ha parlato e ci ha dato grandi informazioni al riguardo io parlo di un'altra cosa dell'azienda dell'impresa perché in tutto il nostro racconto io difficilmente ho sentito il focus sull'imprenditore io così come la fondazione Felice Chirò grazie alla quale il progetto è partito perché se non ci fosse stata la fondazione senza scopo di lucro a finanziare sul territorio un'iniziativa che valorizzasse il territorio nulla di quello che adesso vi racconterò sarebbe stato possibile e molte volte adesso sentendo l'intervento che mi ha preceduto ho anche un paio di interventi prima sentivo io vengo da 22 anni di esperienza in mondo finanza commitment piuttosto che accountability mi sono trovato e mi occupo anch'io di formazione e di comunicazione da 20 anni in un grande problema nel realizzare questo progetto cioè noi siamo andati presso gli agricoltori presso i produttori pomodoro pelato nel foggiano e nel casertano 400 persone a parlargli di blockchain io e ho scoperto che probabilmente il produttore di pomodoro pelato tutto questo che abbiamo raccontato non può interessargli moltissimo noi ugualmente abbiamo fatto il progetto perché questo progetto si distingue da tutti gli altri perché noi abbiamo realizzato la prima rete di impresa nata esclusivamente per fare blockchain abbiamo preso tra i centinaia di uditori che avevamo davanti a cui abbiamo spiegato la blockchain abbiamo preso una serie di imprese le abbiamo riunite in una rete di imprese la rete di imprese pelato in rete e gli abbiamo fornito la blockchain perché anche una delle grandi rivoluzioni che questa iniziativa ha voluto realizzare è fornire al piccolo micro adesso mi collego all'intervento delle neve precedenze quando sentivo piccolo e micro e per farlo gli devi dare anche un prezzo accessibile perché se no si inizia sempre il solito paradigma lo forniamo allo strumento strumento blockchain alla grande distribuzione che poi lo fa calare o consorsi che siano ai piccoli produttori che vedranno l'ennesima incombenza su di loro invece noi che cosa abbiamo fatto ecco dal produttore al distributore veramente la blockchain qua è stata fornita ai produttori a un prezzo accessibile perché se no stiamo parlando di niente immaginatevi un produttore di pomodoro pelato che vende 10 centesimi al chilo se gli fai pagare l'iniziativa a 500.000 euro penso che difficilmente possa essere ecco democratizzazione della blockchain gli abbiamo dato lo strumento blockchain forti dello strumento blockchain sono andati a proporlo ai trasformatori e ai distributori e abbiamo dal basso rivoltato la filiera ecco perché nel mio intervento ho iniziato dicendo ed è stata ospite questa iniziativa della FAO che ci ha chiamato per parlarne perché chi meglio della FAO ha interesse verso la piccola e la microproduzione e se noi andiamo sempre a parlare dello stesso paradigma la blockchain splende lo strumento e io continuo a dire è meramente mi collego al primo intervento che c'è stato meramente uno strumento che è combinato da altri strumenti tecnologici permette l'aumento della qualità della vita del produttore in questo senso ma l'elemento chiave è stata questa ribaltare la filiera e allora mi collego con quello che è stato detto in precedenza fiducia sì assolutamente perché in un intervento avvenuto presso l'università del Friuli c'è stato detto come li avete uniti i produttori c'è questa rete di impresa a cui è stata data la blockchain mero strumento come si è costituita e io gli ho detto loro si sono costituiti quando tu trovi 500 produttori e allora mi collego a quello che è stato detto assolutamente nell'intervento che mi è preceduto in 500 produttori di un consorzio ci saranno 148 maile marce ma loro si conoscono come è nata questa iniziativa con i produttori che sanno perfettamente chi competitor fino a ieri lavorato sempre bene e di cui si possono fidare sapendo che se uno perché anche noi come tutti quanti certifichiamo l'eticità attraverso i documenti e quant'altro o iniziative in questo senso se metti dentro qualcuno che ovviamente usa il caporalato va giù tutta la costruzione ma così come il trasformatore quando si aggancia mi perdonerete alla filiera e alla tracciabilità uso questa espressione sarà il primo a essere interessato che i soggetti che gli stanno portando blockchain siano soggetti di cui fidarsi e così come la distribuzione e quando io mi trovavo a parlare a centinaia di produttori la domanda numero uno che mi veniva sempre posta era ma quanto ci guadagno e la mia risposta era sempre la stessa non lo so perché siete i primi poi a dicembre del 2019 abbiamo presentato i risultati primi effettivi di quanto hanno guadagnato i produttori e i produttori hanno guadagnato più 20% e il trasformatore più 25% e il distributore ha aperto nuovi mercati questo è nella mia accezione e ritorno sul mio background è aggiungere valore cioè questo è il creare valore effettivo fuori da quello mi trovo perfettamente d'accordo relativo alla notarizzazione se no è un mero esercizio di stile cioè la blockchain di cui io a differenza di chi mi ha preceduto io sono il CEO della mia azienda ma non sono un tecnologico sono i miei soci tecnologici quello che ho voluto sempre improntare e qui d'accordo con la fondazione quando ci siamo seduti insieme a un tavolo era un valore sul territorio per il territorio che rimanesse ai produttori produttori che io e qui dico veramente mi trovavo affascinante quando adesso mi permetto del tuo Marco mi faceva vedere l'ultima schermata con l'evoluzione in termini di full chain di quello che è la loro iniziativa perché ho trovato vedendo quello la stessa emozione che ho provato quando ho visto che i nostri produttori passavano dal quaderno di campagna cartaceo a un'app nella quale inserire i dati direttamente dai campi dai quali puoi estrarre i dati in blockchain lì vedi che questo strumento porta effettivamente del valore così come questo semplicemente sto dicendo è questo è quello che è il loro quaderno di campagna e così quando è arrivata la prima latta di pomodoro allora qui ho intuito che ecco la blockchain come strumento al quale poi seguiranno tantissime altre iniziative come i colleghi che mi hanno preceduto per cui inizio a mettere la tecnologia dei droni piuttosto che dei sistemi di pagamento allora in questo senso volevo presentare la nostra iniziativa come un'iniziativa che portava innovazione perché partiva profondamente dalla base addirittura costituiva una base associando in una rete di imprese i produttori e coinvolgendo tutti i soggetti del territorio i colleghi che mi hanno preceduto hanno parlato tanto di blockchain io al fine di far recuperare perché immagino gli organizzatori in questo senso abbiano attenzione tempi termino qua il mio intervento e lascio la parola a chi mi deve seguire grazie grazie mille per la presentazione che andava così sul concreto dell'esperienza lato aziende non tecnologiche ma diciamo utilizzatrici delle soluzioni che vengono da questa famiglia di tecnologie passiamo direttamente quindi subito la parola a Marco Lafrancia di Arancia ICT per un ragionamento nel settore del turismo grazie 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 Giulia sono Marco Lafranca sono un informatico un tecnico appassionato di tecnologia lavoro per Arancia ICT da otto anni mi occupo di gestione progetti e di team leading provo a condividere anche il mio schermo vi ho la presentazione così vi facciamo vedere anche il nostro caso d'uso lo vediamo lo vediamo ok ok vedete il nostro caso d'uso è applicato al turismo quindi molti diciamo che mi hanno preceduto hanno già parlato tantissimo di blockchain quindi cerchiamo di andare più nel dettaglio dell'abito turistico il progetto diciamo che si chiama Sissi Travel Blockchain mostra alcune delle possibili applicazioni appunto della blockchain al mondo della promozione turistica Arancia ICT è la capofilia del progetto che è sviluppato in collaborazione assieme ai partner per i consulting e SferaNet in particolare il progetto è finanziato dalla regione siciliana quindi è stato finanziato è ancora in corso è stato avviato l'anno scorso e finirà il prossimo anno quindi siamo ancora in fase diciamo di anche progettazione su alcuni aspetti ha l'obiettivo di espandere comunque tutta la radiazione sul territorio nazionale italiano puntare sulla tecnologia blockchain proprio in questo momento per il turismo secondo noi ha una grande potenzialità e può costituire sicuramente un grande punto di forza i punti principali che state vedendo in questa slide su cui abbiamo cercato di concentrare il nostro progetto sono esattamente quattro le recensioni certificate quindi sfruttare la blockchain per recensire in modo certificato sia attraverso la blockchain ma utilizzando anche altre tecnologie ad esempio NFC e Bluetooth che sono al supporto della posizione dell'utente per la propria presenza vedremo poi in seguito i dettagli un sistema di premiazioni a trofei punteggi che è valorizzato attraverso una propria criptomoneta interna un nuovo sistema di pagamenti attraverso le criptomonete e poi in ultimo gli smart contract con una tokenizzazione degli asset sia per il mercato business che per il mercato consumer quindi vedremo adesso in dettaglio questi quattro aspetti come li abbiamo approfonditi quali sono gli attori della piattaforma intanto che entrano in gioco da un lato abbiamo i provider quindi coloro le aziende che vogliono in qualche modo vendere propri prodotti o servizi dall'altro lato abbiamo i consumer e i wholesaler cioè coloro i quali vogliono acquistare questi servizi i consumer come utente singolo i wholesaler come grossista e quindi rivenditore di tipo B2B a supporto della piattaforma abbiamo i promoter e gli organizer che in qualche modo aiutano lo sviluppo dei provider e organizzano il territorio attraverso marketing territoriale specifico profilato per utente andiamo adesso al tema delle recensioni perché servono potrebbero servire le recensioni certificate e perché servono perché in giro esistono tantissime recensioni false quindi molti portali hanno delle recensioni false in particolare TripAdvisor non so se avete avuto modo di vedere sono presenti delle recensioni false quindi l'obiettivo qual è che cercare di migliorare diciamo le recensioni perché le recensioni false hanno un impatto molto significativo sul fatturato e incidono negativamente sui possibili turisti che sono più sensibili quando si tratta di consultare feedback sulle strutture ricettive rispetto a altri settori quindi quello che si vuole fare è proporre una soluzione sia agli utenti quindi sia consumere che vendor che permette in qualche modo di certificare le recensioni attraverso uno standard di qualità che tutela tutti la soluzione al problema che abbiamo identificato è quella di utilizzare sia la blockchain ma anche le tecnologie di prossimità quindi sensori di prossimità NFC e Bluetooth attraverso delle app installabili su smartphone che ci permettono di identificare e verificare l'identità di chi sta effettuando la recensione autorizzando soltanto chi effettivamente ha usufruito del bene servizio presso quella struttura vediamo più in dettaglio come funziona il processo di recensione intanto viene assegnato un nuovo token all'utente quando appunto c'è l'università di recensire il token viene consegnato solitamente al pagamento avvenuto quindi in fase di pagamento e lì entra in gioco anche la tecnologia NFC Bluetooth che con un senso di prossimità va a verificare che l'utente si trova presso la struttura quindi con uno step di verifica la successiva fase è appunto la recensione dell'utente che può avvenire anche in un secondo momento quindi non è necessario che la recensione avvenga immediata quindi una volta che si è sbloccato il token e c'è stata la verifica l'utente può recensire anche successivamente la recensione ovviamente viene premiata attraverso un programma di fidelizzazione in modo tale che gli utenti siano incentivati e parte attiva del sistema qual è il risultato? che sicuramente abbiamo una community più sensibile all'importanza delle recensioni abbiamo un'affidabilità e autorevolezza nel campo delle recensioni attraverso anche il passaparola maggiore credibilità e guadagni per gli utenti affiliati maggiore attenzione verso i clienti e poi anche la prima azione verso gli utenti che fanno le recensioni che è in criptovaluto interno che adesso andiamo a vedere come l'abbiamo immaginata criptovaluto interna l'idea di base è quella di dotare l'applicazione di una sua criptomoneta una criptovaluta un suo token in modo tale che diciamo la piattaforma potesse differenziarsi dal mercato dalle piattaforme presenti dai competitor gli utenti coinvolti sono quindi più incentivati a utilizzare la piattaforma avvengono maggiori legami tra le attività commerciali non ci sono intermediari e quindi non ci sono commissioni o comunque bassissime commissioni la criptovaluta l'abbiamo individuata come un modo per coniugare gli interessi di tutte le parti vediamo adesso la parte dei trofei e punteggi quindi come diciamo abbiamo pensato questa immaginato questa parte il fatto che si possa sicuramente diciamo ottenere un punteggio un trofeo in base a delle azioni quali sono le azioni l'inserimento ad esempio di una recensione certificata nel sistema da parte dell'utente la partecipazione attiva al sistema quindi effettuando delle prenotazioni attraverso il booking messo a disposizione dalla piattaforma oppure creare e condividere itinerari all'interno della piattaforma stessa itinerari di viaggio che diciamo ha fatto l'utente o esperienze che ha fatto l'utente tutte queste operazioni ci consentono di raggiungere livelli di membership graduali e quindi puoi ottenere dei vantaggi all'interno della piattaforma stessa vantaggi che possono essere in qualche modo spesi o diciamo dalla persona che le ha ottenuti o eventualmente condividendo con altre persone che diciamo usufruiscono pure della piattaforma utilizzano la piattaforma i pagamenti sono possibili attraverso i metodi tradizionali quindi per evitare diciamo per portare anche subito gli utenti all'interno della piattaforma oppure diciamo con degli incentivi come abbiamo visto anche per le criptovalute secondo utilizzando criptovalute arriviamo quindi al tema diciamo molto importante che già è stato un po' discusso da chi mi ha preceduto gli smart contract gli smart contract applicati al mondo del turismo sono visti come dei contratti intelligenti degli algoritmi che vengono scritti all'interno della blockchain e vanno a definire le regole di un contratto e non solo definiscono le regole ma lo rendono anche operativo applicando automaticamente gli step previsti in base alle condizioni del momento quindi questi contratti intelligenti lavorano praticamente in autonomia senza l'intervento di un intermediario una volta definiti non ci sono intermediari e promettono di superare appunto l'intermediazione delle grandi OTA senza intaccare il rapporto fiduciario tra agente di viaggio e agente finale consentono inoltre attraverso la tokenizzazione degli asset di costruire pacchetti turistici in una maniera molto più intuitiva interconnessa grazie appunto alla tokenizzazione e ridistribuire le eventuali quote automaticamente rispettando i termini stabiliti dei fornitori quindi sono automatici ma sono anche sicuri proprio per la sicurezza che abbiamo visto della blockchain in ultimo sicuramente con gli smart contract se opportunamente configurati non ci sono sorprese uno degli aspetti molto importanti di questi giorni è che ad esempio la politica di rimborso attraverso uno smart contract è praticamente immediata quindi sia il rimborso che la distribuzione degli eventuali pagamenti risulta molto agevolata soprattutto in questo momento di emergenza avere una semplice politica di repound è molto importante per gli utenti perché i contratti per come vengono eseguiti possono essere anche in qualche modo annullati si possono definire pacchetti turistici rivolti sia al consumer quindi al mondo B2C o rapporti commerciale e sicure senza intermediari e senza commissioni per la parte invece business quindi B2B diciamo ovviamente arrivati a questo punto una domanda potrebbe sorgere spontanea sicuramente una domanda c'è ma se non ci sono commissioni la piattaforma come può sostenersi come può evolversi in qualche modo diciamo noi abbiamo pensato che la politica di revenue della piattaforma possa basarsi su servizi aggiuntivi cioè la base della piattaforma diciamo non ha costi per gli utenti ma attraverso diciamo dei servizi aggiuntivi o di marketing territoriale profilato per utente quindi offerti con dei pacchetti premium agli utenti vendor possa in qualche modo sostenersi quindi parliamo con servizi aggiuntivi parliamo di analisi statistiche servizi per le strutture ad esempio fornire un channel manager specifico un booking engine promozione sui social articoli specifici per appunto promuovere un certo territorio e così via attraverso diciamo le figure che abbiamo visto prima che sono appunto il promoter e l'organizer in ultimo una slide di ANCST ANCST è una realtà che esiste da 13 anni in costante crescita offre servizi e tecnologie per la digital transformation con più di 50 professionisti che operano in diverse sedi Palermo Romano e Lecce siamo certificati ISO 9001 per quanto riguarda le certificazioni abbiamo l'accreditamento agit per la conservazione digitale dei documenti e per i servizi in cloud anche nel 2020 la ANCST è presente all'interno della classifica particolare stilata al sole 24 ore per le aziende leader della crescita ed è in costante crescita anche dal punto di vista dei ricavi ho messo alla fine una slide di domande non so se ce ne sono eventualmente sicuramente dato il poco tempo di disposizione potreste contattarci anche attraverso i nostri contatti volevo ringraziare comunque Giulia e tutta l'organizzazione per l'opportunità che ci avete dato di presentare il nostro caso d'uso grazie 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 a voi anche perché con con gli sforzi fatti nel condensare le vostre esperienze così dense in realtà ci avete consentito di stare nei tempi visto che era previsto uno spazio per le domande ma relatori e partecipanti si sono già giustamente scatenati anche gestiti nella nella chat sarà disponibile la la registrazione saranno resi disponibili i contatti dei relatori e alcune delle presentazioni se compatibile con le loro politiche aziendali a questo punto sono ai ringraziamenti che ribadisco per tutti i relatori per i partecipanti un grazie particolare alla Cluster Innovate e a Massimo Carnevale che ci ha dato una mano nel trovare nel trovare gli esempi questa era l'ultima puntata della PID Academy 2020 l'obiettivo di questi webinar è trasferire informazioni iniziali per avviare poi un confronto un dialogo delle relazioni produttive tra i partecipanti tra gli esperti Camera di Commercio della Romagna azienda speciale CISE Laboratorio Aperto Casa Bufalini e Romagna Tech che hanno collaborato a questa serie sono comunque sempre disponibili per informazioni progetti sviluppi siamo qui per aiutare la trasformazione digitale del nostro territorio e lo facciamo volentieri con curiosità e anche spesso divertendoci perché sono racconti curiosi entusiasmanti quelli che ci fanno le aziende del nostro territorio e non solo dimostrano una grande vitalità e di questo non possiamo che essere contenti ecco a questo punto vi saluto e vi chiedo vi invito a consultare regolarmente i siti degli organizzatori per nuovi appuntamenti di questo tipo nell'anno a venire nei prossimi mesi comunque grazie grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti